Il sistema di parcheggio assistito rileva la presenza di eventuali ostacoli che si possono trovare davanti, dietro e lateralmente al veicolo durante le manovre di parcheggio. Vengono emesse segnalazioni acustiche la cui frequenza aumenta man mano che ci si avvicina a un oggetto, trasformandosi in un suono costante quando l'ostacolo si trova a 20 o 30 centimetri dal veicolo. Il display dello schermo completa le segnalazioni acustiche e consente di visualizzare l'area intorno al veicolo. È possibile attivare il sistema dallo schermo multifunzione. Grazie. 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 Grazie.